benvenuti benvenuti alla puntata di oggi di stampa evangelo puntata che arriva dopo la nostra straordinaria performance a sky avete visto che un po se ne è parlato diciamo di quello che abbiamo fatto a sky siamo ben lieti di aver portato un po di attenzione sul popolo la famiglia e anche sul tema della discriminazione che come sapete un tema un po scivoloso noi ieri abbiamo dimostrato in diretta cos'è la vera discriminazione grazie a meri rossi pongi ruppi e leutei di coordinamento editoriale giovanni fiori corrado salonia giampiero bonfanti giacomo collotto laura terrana milena brindisi trabona giovanni barbaro i primi che sono arrivati insieme ad andrea cavenaghi con cui stavamo organizzando l'avvento di monza del 20 di febbraio fatima salutare i romani giovanni fiori li rappresenta i romani si vedono domani mi raccomando domani 7 c'è la presenza con tutto il coordinamento romano il 7 alle ore 18 ci troviamo col coordinamento romano faremo la presentazione dei candidati romani ci sarà anche sergio pirozzi per quanto riguarda la regione lazio e parleremo anche con lui quindi tutti i romani convocati alessandro margiotta salvino salvinia il gruppo preghiera del popo della famiglia sempre prezioso danilo bassanna pdf padova allora oggi parleremo di alcune cose molto rilevanti una in particolare l'annuncio subito per i primi arrivati chi è abbonato alla croce sa che oggi oltre all'editoriale meraviglioso è già franco amato sempre molto puntuale e oggi con una prospettiva anche di sguardo sul mondo molto interessante la prima pagina della croce di oggi oltre all'editoriale di amato lo dico anche un appello pensate un po un appello di 63 religiosi sacerdoti religiose a sostenere il popolo della famiglia non è una cosa meravigliosa non è una storia straordinaria verso il 4 marzo frenare la deriva questo è il titolo della dell'appello alessandra mondelli mi chiede graziosamente se ho dormito almeno tre ore sapete bene che ormai per dormire tre ore per me è impossibile anche per colpa vostra perché mi scrivete a ogni ora del giorno della notte insomma quindi per stare a dare risposte a tutti si dorme molto poco magari poi si comincia tardi la puntata di stampa evangelo perché si fa tardi a costruirla però stiamo facendo questo e quando uno sta sulla bicicletta non si lamenta della pedalata quindi noi pedaliamo e andiamo oggi pure con maglietta gay friendly così nessuno ci può accusare di niente e andiamo avanti a questa notizia è molto importante 63 lo ripeto 63 sacerdoti religiosi e religiose che firmano un appello che oggi leggeremo per il voto a favore del popolo della famiglia è qualcosa di estremamente importante l'appello è aperto oggi lo pubblicherò sia sui social che sul sito della croce quotidiano tutti potranno firmare questo appello aggiungendosi dunque ai 63 basta inviare una mail a lacroce quotidiano chioccio a gmail.com e dunque aggiungersi ai 63 coraggiosi che hanno aperto questa strada è una notizia molto importante sappiate che non è semplice per un sacerdote per un religioso per una religiosa esporsi in questa maniera e per di più esporsi per il popolo della famiglia quindi veramente a ragione Danilo Leonardi quando dice grazie ai sacerdoti che hanno firmato e firmeranno grazie davvero è qualcosa di estremamente importante se conoscete i sacerdoti che vogliono e possono esporsi fate subito mandare l'email di appoggio all'appello su lacroce quotidiano chiocciola gmail.com più avanti leggeremo l'appello integralmente durante questa puntata quindi per favore come sempre un mi piace alla puntata per frenare l'algoritmo degli haters condividi sulla tua pagina questa diretta per far sì che tutti possano vedere quello che stiamo facendo e sappiano dunque dell'appello dei sacerdoti cosa importante quindi la condivisione sulla vostra pagina serve oggi a far conoscere l'appello dei 63 e poi invitate direttamente i vostri amici a partecipare alla diretta federico pieroni dice venerdì a perugia vi presenterà un grande sacerdote presentamelo ma prima fallo firmare oggi è martedì prima di venerdì il grande sacerdote voglio che firmi il nostro appello adesso non ci sono più scuse le persone si sono esposti i primi 63 si sono esposti e hanno quindi provato che si può fare sono stati coraggiosi ora aggregate attorno a loro più sacerdoti religiosi e religiose possibili e dite loro che si può firmare l'appello scrivendo alla croce quotidiano chiocciola gmail.com ripeto la croce quotidiano chiocciola gmail.com come dice nicola di matteo il nostro coordinatore nazionale preghiamo per loro oggi chi difende la famiglia è chiamato al martirio quindi davvero è importante questo la lettra indirizzata ai sacerdoti è stata inviata a tutti i parloci quella è la lettra di gianfranco che è stata inviata a tutti sì e quindi tutti sanno oggi che esiste il popolo della famiglia sicuramente ecco arrivato don francesco morcavallo lo saluto chiedo davvero a tutti i sacerdoti che possono e vogliono mandare l'email alla croce quotidiano chiocciola gmail.com per firmare l'appello che oggi leggeremo insieme però è importantissimo ancora più importante che oggi questa diretta sia seguita da tante persone quindi vi chiedo la condivisione della diretta perché questa notizia di 63 sacerdoti religiosi e religiose che hanno trovato il coraggio di scrivere un appello e firmare per il voto al popolo della famiglia è davvero qualcosa che dobbiamo far conoscere a tutti dunque per favore fate la condivisione della diretta sul vostro profilo come sempre noi partiamo dalla lettura del buona notizia del vangelo di oggi oggi apriamo il capitolo 7 il capitolo 7 del vangelo di marco siamo nella nel vangelo come sapete che io adoro quello che si legge in 80 minuti e in 80 minuti ti cambia la vita andiamo a leggere questi 13 versetti del vangelo di marco in quel tempo si riunirono attorno a gesù i farisei alcuni degli scribi venuti da gerusalemme avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con le mani immonde cioè non lavate i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavatura dei bicchieri stoviglie e oggetti di rame quei farisei e scribi lo interrogarono perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono cibo con mani immonde ed egli rispose loro bene approfetato isaia di voi ipocriti come sta scritto questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me in vano essi mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini trascurando il comandamento di dio voi osservate la tradizione degli uomini e aggiungeva siete veramente abili nell'eludere il comandamento di dio per osservare la vostra tradizione mosea infatti disse onora tuo padre e tua madre e chi maledice il padre la madre sia messo a morte voi invece andate dicendo se uno dichiara al padre o alla madre è corban cioè offerta sacra quello che ti sarebbe dovuto da me non gli permettete più di fare nulla per il padre la madre annullando così la parola di dio con la tradizione che avete tramandato voi e di cose simili ne fate molte questa è la parola del signore di oggi è molto bella per diciamo rivolta anche all'illuminazione del nostro percorso quanti ipocriti quanti farisei quanti ci indicano no no tu non sei secondo la tradizione non sei quello che dovresti essere alla perfezione poi guai a spalancare i loro armati perché trovereste scheletri pazzeschi ma si divertono a giocare con quelli che mangiano con le mani immonde è un po un messaggio che diciamo davvero come dice cesare fanfani molti cattolici sono diventati come loro purtroppo anche peggio sono i servitori e i camerieri dei peggiori padroni diabolici e poi vengono da noi ci fanno la predica sulla santità e questo è un elemento abbastanza interessante camerieri e servi dei peggiori padroni diabolici lo ripeto e poi però vengono da noi a dire che non siamo santi ed è verissimo per la verità è verissimo sicuramente mangiamo anche noi con mani immonde però ecco questa lezione non so se possono farla i camerieri dei servitori di padroni che sono diabolici e comunque traditori della causa diciamo così i farisei tra l'altro a me stanno abbastanza simpatici perché gesù li bastora sempre però si capisce che i farisei cercano di stare dentro la loro tradizione è la loro forma di ipocrisia quando incontrano qualcosa di buono di bello addirittura incontrano il messia che diventa insopportabile la loro cecità è forse la cosa meno accettabile e questa pagina di vangelo sicuramente ci illumina su una forma di difficoltà che viviamo anche noi nel nostro percorso perché le mani bisogna sporcarsene un po scrive marimar ed è così effettivamente c'è anche emiliano fumaneri oggi suggerisco la lettura di fumaneri sul quotidiano la croce a proposito visto il quotidiano la croce oggi ha una paginata di fumaneri meravigliosa che fra l'altro sta proprio accanto all'appello dei 63 religiosi sacerdoti e religiose di cui parleremo tra poco c'è all'editoriale di gianfranco amato strepitoso con uno sguardo che arriva dal mondo estremamente interessante io vi chiedo come sempre sapete stiamo producendo moltissimo materiale elettorale di tutti i generi manifesti che vedete dietro e quindi stiamo anche affrontando una valanga di spese se potete aiutarci iscrivetevi tramite il marketplace della croce al popolo e la famiglia magari fate una una descrizione da sostenitori o regalatela a qualcuno se siete già iscritti www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora per dare una mano anche concretamente a questo sforzo che noi facciamo concreto tutto questo materiale a milionate vi arriverà nelle sedi regionali credo proprio in queste ore peraltro quindi tra oggi e giovedì diciamo tutta italia sarà coperta da milioni di questi biglietti che vi ricordo per chi non ha visto la puntata di ieri sono la nostra killer application in campagna elettorale un biglietto da visita che ha dentro tutte le informazioni il nostro simbolo prima di tutto il fatto che si voti il 4 marzo ricordiamoci che la gente non lo sa la gente non sa che si vota il 4 marzo dobbiamo dirlo 4 marzo ci sono le elezioni come si vota sotto questo bigliettino c'è scritto anche come si vota cioè si vota c'è avere una sola croce da poter mettere e la croce va fatta sul simbolo spiegare come si vota le persone è un servizio importante e c'è scritto su questo cartoncino c'è scritto l'alternativa c'è cioè spieghiamo che noi siamo l'alternativa alla destra e alla sinistra alle coalizioni che ci sono ai 5 stelle e dunque il messaggio politico e sul retro eccolo qua sul retro le questioni fondamentali del nostro programma riassunte in 10 righe con il riferimento al sito il popola famiglia.it dove si possono leggere invece tutte 65 le proposte del programma del popolo della famiglia dare questi biglietti in mano alle persone solo le persone che sapete che voteranno per noi e potranno lavorare a far votare per noi è la nostra il commentana il tg rai e mediaset oggi uno adesso scrive al tg com nessuno cita mezza volta il popolo della famiglia ma ricordate anche il family day non è stato mai citato dai giornali dai giornali prima del family day eppure poi si sono ritrovati con un milione di persone per strada ora facciamoli ritrovare con un milione di voti nelle urne e grazie al vostro lavoro è tutto lavoro ognuno dei voti che andremo a prendere è frutto del lavoro cioè dell'aver fatto conoscere simbolo programma nostre intenzioni la nostra stessa faccia alle persone questo dobbiamo fare dalla mattina alla sera nient'altro non stancarci mai e far conoscere a tutti la proposta alternativa del popolo della famiglia qui lo leggete al contrario il manifesto l'alternativa c'è prima la famiglia il 4 marzo vota al popolo della famiglia allora condividete se potete il la diretta di oggi sul vostro profilo per favore fatelo ora perché adesso andiamo a leggere il l'appello rivolto da 63 sacerdoti religiosi e religiose ripeto 63 religiosi religiose sacerdoti per il voto al popolo della famiglia dunque per favore davvero adesso condividete la diretta a tutti fate mi piace alla diretta invitate gli amici a venire a seguirla perché stiamo leggendo in questo momento il testo dell'appello verso il 4 marzo frenare la deriva questo è il titolo dell'appello si può firmare l'appello se quello che leggerò piacerà magari a un sacerdote che ci sta ascoltando un religioso che ci sta ascoltando una religiosa che ci sta ascoltando lo si può firmare facendo semplicemente una email a lacroce quotidiano chiocciolagmail.com ecco il testo dell'appello la legislatura che si è appena conclusa peggiorando la situazione sociale e legislativa del nostro paese ha condotto l'italia sull'orlo del baratro soprattutto con l'approvazione di leggi non solo inconciliabili con il magistero della chiesa ma contrari al retto uso di ragione e perciò oggettivamente dannose per la cittadinanza dal cosiddetto divorzio breve del 2014 con i sì di tutti i gruppi politici appena 19 voti contrari alla camera su 630 deputati al cosiddetto bio testamento del decembre 2017 37 voti contrari passando per la pessima legge cirinnata del 2016 sulle unioni omosessuali le norme sui cosiddetti nuovi diritti hanno di fatto impresso all'ordinamento giuridico italiano una spinta violenta ma non irreversibile contro la vita e contro la famiglia contro l'uomo e perciò contro dio ora ridosso delle elezioni politiche tempo di parlare con chiarezza altrimenti la prossima legislatura sarà quella del matrimonio omosessuale qualitario del luto in affitto dell'eutanasia del suicidio assistito della droga libera tutte sciagure umane falsi miti di progresso proposte agli elettori come simboli di avanzamento e scelte di civiltà noi come italiani cittadini sacerdoti religiosi e religiose sentiamo la responsabilità in questo momento storico riteniamo l'offerta politica che si ripresenta da troppo tempo sempre uguale a se stessa incapace di rispondere a una crisi sociale culturale esistenziale valoriale che ormai è sempre più evidente attenzione a questo passaggio ora dell'appello di 63 religiosi religiose sacerdoti le vie della provvidenza hanno però messo in campo nella competizione elettorale del 4 marzo prossimo il popolo della famiglia un raggruppamento di ispirazione cristiana che si fonda esplicitamente sulla dottrina sociale della chiesa con un programma denso di soluzioni che puntano ad investire sulla famiglia naturale maschio e femmina li creò e sulla vita come valore indisponibile senza lasciare spazio alla cultura dello scarto e contrastando l'ideologia gender chiediamo ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà di tenere in considerazione la possibilità di sostenere il popolo della famiglia un'affermazione importante del popolo della famiglia sarebbe l'unico segnale di autentica novità ed è per questo che il radicalismo di massa tanto lo teme per far vivere e rappresentare fedelmente in parlamento la speranza nata con i femmili dei di cui il pdf è conseguenza politica dopo il clamoroso tradimento operato dai vecchi partiti da sinistra a destra ai danni di quella piazza noi sacerdoti religiosi e religiose firmatari di questo appello pregando ed amando il nostro paese incoraggiamo tutti i nostri concittadini italiani a conoscere il popolo della famiglia e nel discernimento ad offrire ogni possibile sostegno il 4 marzo per porre almeno un freno a questa evidente deriva che vorrebbe farla finita con l'uomo questo è il testo dell'appello io lo trovo davvero meraviglioso 63 sacerdoti religiosi religiose hanno firmato questo appello che ora veramente verrà sicuramente messo su facebook come dice rossanna casucci verrà indicato il modo con cui si può firmare sacerdoti religiosi e religiose devono se vogliono mandare una email a la croce quotidiano chioccio a gmail.com lo ripeto la parte finale cruciale dell'appello noi sacerdoti religiosi e religiose firmatari di questi di questo appello pregando e amando il nostro paese incoraggiamo tutti i nostri concittadini italiani a conoscere il popolo della famiglia e nel discernimento ad offrire ogni possibile sostegno il prossimo 4 marzo per porre almeno un freno a questa evidente deriva che vorrebbe farla finita con l'uomo dice carlo rossi veramente stupendo questo appello è davvero davvero stupendo è una pagina che resterà nella storia noi diciamo sempre facciamo la storia ce l'abbiamo scritto anche sulla testa del popolo della famiglia per chi si è iscritto vi ricordo iscrivetevi date una mano concreta al popolo della famiglia www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora noi ci abbiamo scritto sulla testa facciamo la storia questo testo questo appello sarà qualcosa che rimane nella storia del mondo cattolico ve lo dico subito è qualcosa di incredibile che ci sta dando un sollievo anche spirituale immenso 63 sacerdoti diventeranno tantissimi vedrete fatelo circolare presso ognuno il testo è davvero meraviglioso è un testo di pura verità è un testo di grande coraggio quindi davvero come dice nicola di matteo è un'opera di dio 63 già lo hanno firmato e sono davvero impressionato dalla bellezza del testo ora l'ho letto per la prima volta ad alta voce io l'ho letto su sulla croce perché l'abbiamo impaginato stanotte io e giovanni marco tuglio finendo proprio all'una di questa notte e come dice francesca patuzzi è commovente caro san giovanni paolo secondo siamo in piedi dice francesca patuzzi sì davvero siamo in piedi è arrivato don ottorino baronio in questo momento davanti alla diretta don ottorino baronio è uno dei 63 sacerdoti coraggiosi che hanno firmato questo appello davvero se ci fosse una platea come ci sarà perché siamo migliaia e migliaia a vedere ogni giorno stampa evangelo c'è da fare un applauso in piedi a don ottorino lo faccio io e l'applauso a don ottorino e l'applauso a monsignor salvatore vitiello dell'università cattolica di milano che si è espresso e ha diciamo collaborato fattivamente alla sesura di questo appello don damiano cavallaro don mirco bianchi ne posso veramente citare tantissimi farei un torto a quelli che non cito ma sono davvero davvero orgoglioso e oggi adesso in questo momento quando ho letto per la prima volta ad alta voce il testo mi sembra davvero che posso dire con faustino cogliandolo che questo è un gioiello nella campagna elettorale un gioiello ieri oggi a venire c'è una pagina dedicata a noi per l'italia che fa l'appello al voto cattolico ora se l'appello al voto cattolico lo fa maurizio lupi che è venuto alla family day per poi tradire lateralmente 20 giorni dopo e vendersi neanche a 30 denari a 15 denari e per adesso andare a fare la conferenza stampa che ovviamente ha una paginata su avvenire oggi una paginata di appello al mondo cattolico bene spero davvero che avvenire legga questo appello lo legga e forse ripari all'oscenità di vedere maurizio lupi con una paginata di dichiarazione su avvenire a poter fare l'appello al al mondo cattolico non è degno lo dico con chiarezza maurizio lupi dopo il tradimento sulla legge cirinna non è degno di venire a chiedere i voti al mondo cattolico è uno che si deve solo vergognare per aver approvato una legge infame e anticostituzionale soprattutto dopo essere stato presente ai family day essersi preso l'impegno di battere la legge cirinna essere andato poi in parlamento 20 giorni dopo a voltare cabana e votare nella maniera opposta rispetto agli impegni che aveva assunto noi siamo con questi 63 sacerdoti e come dice Ottolino Baronio che il buon dio illumini i cuori e menti perché il signore ci chiederà ragione della speranza che è in noi davvero grazie a don Ottolino Baronio ai 63 io lo dico davvero monsignor salvatore vidiello lo devo citare in maniera particolare perché ha lavorato con noi lo voglio svelare a lungo anche nel dettaglio durante la notte con con don danno cavallaro con tutti gli amici che hanno fatto molto e devo fare poi devo fare poi i ringraziamenti a tutti voi che con coraggio è arrivato anche don Filippo Codroneo un altro firmatario dell'appello che è arrivato adesso lo ringraziamo i tanti che hanno cominciato a avviare una una strada ripeto questa pagina è una pagina di storia questa pagina è una pagina di storia ora fatela circolare ora è importantissimo che questa diretta sia vista e percepita da più persone possibili condividete subito la diretta fate mi piace la diretta fate davvero qualcosa che sorprenda ora anche il mondo ecclesiale dicendo ci sono 63 coraggiosi che hanno scritto la verità l'hanno scritta sul quotidiano la croce l'hanno testimoniata danno indicazione di sostegno al popolo della famiglia e come dice silvia lo dà questa una notizia spettacolare di quelle che danno una carica incredibile ora però signori dobbiamo trasformare tutto questo in voti il nostro lavoro aiutati come vedete anche dallo spirito santo è assolutamente quello di fare raccolta di consenso in questo momento il nostro lavoro è andare a dire a una persona alla volta anche fuori dalle chiese anche nei gruppi parocchiali guardate che c'è anche un documento di 63 preti che hanno firmato per il popolo della famiglia come fai tu a poter votare l'ho detto nell'occasione della giornata della vita per i partiti che per esempio non si occupano mai non dicono mai una parola non hanno una riga sui temi della vita e della famiglia all'interno del loro programma allora questo è un elemento che vorrei andare davvero a chiedere ai cattolici italiani quelli che oggi hanno la paginata su avvenire perché c'è maurizio lupi che ottiene sempre la paginata su avvenire noi ovviamente neanche mezza citazione allora io vorrei sapere perché loro sì e noi negletti allora adesso andiamo a vedere se questo documento attira o no l'interesse anche nel mondo ecclesiale gerarchico perché evidentemente forse è il momento di porre questo tipo di questione noi però soprattutto dobbiamo fare questo lavoro qua andare a raccogliere consenso ogni giorno oggi più forti grazie ai sacerdoti che lavorano con noi anche nel silenzio operoso ma anche con quelli che si sono esposti che fanno davvero un lavoro importante un lavoro importantissimo e rischiando del loro perché mettendosi su questa lista stanno rischiando del loro ma sono in 63 e sono 63 avanguardia di un popolo di centinaia di migliaia di cattolici e dunque non verranno toccati da alcuna reprimenda perché sono i pastori del loro popolo giuseppe brienza fa la pubblicità l'ho già fatta giuseppe all'iniziativa di domani alle 18 con pirozzi ma soprattutto è coordinamento di tutti i candidati del popolo della famiglia domani ore 18 mi raccomando faremo coordinamento romano ci sarà anche sergio pirozzi per parlare anche delle regionali quindi mi raccomando l'ho già detto giuseppe tranquillo invece venerdì alle 15 farò una conferenza stampa ad ancona all'hotel city poi terrò una conferenza con i cittadini come dice gabriele pierella ieri sera a catania c'è stato un sacerdote che ha chiamato 100 persone ci informa nicola di matteo che vogliono avere notizie sul popolo della famiglia avere indicazioni di voto e quindi nicola gliela avrà sicuramente fornite francesco marconi c'è mancano molti don sturso oggi ne abbiamo trovati 63 di don sturso mentre anna russo sottolinea che ieri radio vaticana ha denunciato l'asservimento dei giornali cattolici a repubblica io farò oggi evidentemente circolare sul web prima di tutto sui social il testo dell'appello con questo testo lo ripeto potete andare da tutti i sacerdoti che volessero e mandare una email a lacroce quotidiano ghioccio a gmail.com se mandate l'email alla croce quotidiano ghioccio a gmail.com potete firmare con una sola email l'appello dei 63 e unirvi dunque magari oggi stesso farlo diventare un appello di numeri ancora più rilevanti è molto importante chi è già abbonato alla croce lo ha letto in anteprima ha letto in anteprima l'editoriale di Gianfranco Amato ha letto in anteprima lo straordinario pezzo di Emiliano Fumaneri ha insomma accesso ecco qui arrivato Don Salvatore Vitiello lo ringraziamo davvero lo ringraziamo con un applauso figurato anche fisico glielo faccio fisico per il lavoro che ha fatto anche questa notte per le correzioni degli ultimi refusi Don Salvatore sa che il quotidiano la croce si chiude oltre luna di notte e grazie a lui possiamo avere tutto in pagina con precisione Agnese Mascellati chiede anche il link dell'intervento a Sky di G24 se andate sulla mia pagina facebook lo trovate lo hanno messo nei commenti quindi potete vedere anche quell'altra brutalità che ci è stata fatta ma che forse si è trasformata in occasione di visibilità ma oggi soprattutto andate a firmare l'appello è arrivato già Don Giovanni Barbaro e ha già firmato l'appello grazie a Don Giovanni Barbaro che l'ha firmato fate mi raccomando la diffusione dell'appello stesso e chiedete ai sacerdoti che conoscete di firmare per l'appello e aggiungere dunque il lavoro a tutto questo. Mirella Prea dice parlaci del programma molti amici miei li stanno ascoltando guardate sul cartoncino il programma è lungo andate su www.ilpopolafamiglia.it slash programma trovate 65 punti programmatici ben argomentati però noi nel cartoncino oltre alle 5 fondamentali informazioni simbolo data le elezioni posizionamento politico alternativo modalità di espressione del voto tutte solo su questo cartoncino abbiamo racconto messo nel retro anche le questioni programmatiche fondamentali e ve le leggo battere la denatalità col reddito di maternità 1000 euro al mese per le donne italiane che diventano mate e si dedicano in via esclusiva alla famiglia vogliamo battere la cultura della morte con il no all'aborto e l'eutanasia l'abrogazione della legge Cirinna e soprattutto l'investimento sulla famiglia naturale quella che fa figli che è cultura della vita contro la cultura della morte quindi di forma fiscale pro family del quotiente familiare vogliamo battere il gender nelle scuole ce l'abbiamo scritto nel simbolo e quindi vogliamo la libertà educativa vogliamo una riforma della scuola basata sul costo standard per avere risparmi e investire anche sulla scuola pubblica vogliamo battere la stagnazione economica la disoccupazione come investendo sulla famiglia sulla famiglia che nasce sulla famiglia che fa impresa sulla famiglia che sostiene la disabilità che resta accanto agli anziani non autosufficienti le coperture le coperture chiede angelica bosio sono semplicissime ricordatevi questa è una campagna elettorale in cui stanno proponendo il reddito di cittadinanza cioè 800 euro a 12 milioni di italiani quello ha una copertura di 105 miliardi di euro purtroppo i bambini sono pochissimi quelli che nascono e quindi la nostra copertura è risibile forse per il primo anno si aggirirà per il reddito di maternità intorno a 500 milioni di euro si fanno solo chiudendo lunar e noi se andiamo al governo chiudiamo lunar altro che un ardi marconi la manconi come si chiama lo chiudiamo tanto quei bandi da un milioni di euro ne fanno 500 l'anno più i costi di mantenimento di quel dipartimento bastano e avanzano solo con uno guarda asciugando un solo spreco a pagare il reddito di maternità e poi lo ripeto noi facciamo proposte concrete e fattibili per pochi milioni di euro loro fanno proposte per 105 miliardi penso al 5 stelle o anche al programma immaginifico di berlusconi quindi siamo infinitamente più credibili noi e come dice ilaria giurlani il popolo famiglia sta diventando davvero un popolo altro che 3 per cento altro che 3 per cento esattamente così l'obiettivo ormai deve essere molto più in alto visto che stiamo crescendo e siamo l'unica speranza per noi genitori che vogliamo fare una scelta diversa in maniera di salute scrive Nadia abbiamo nel programma anche la questione della libertà vaccinale perché dobbiamo avere 10 vaccini obbligatori per decreto legge con esclusione dei bambini alle scuole quando nel mondo i vaccini obbligatori sono quattro io ho fatto vaccinare i miei figli tutti noi abbiamo fatto vaccinare i nostri figli ma non per decreto legge per far contente le aziende farmaceutiche che producono i vaccini alcuni dei quali anche oggettivamente con alcune precauzioni che andrebbero assolutamente prese e devono essere spiegate cosa diciamo sulla legge 107 non lo dico io dico a Beatrice Nazarena Novella l'abolizione della 107 lo dico a Beatrice Nazarena Novelli è nel programma andatelo a leggere il programma dai non è difficile siete su internet www.ilpocodafamilia.it slash programma è facile quindi andate lì e vedete tutto il materiale programmatico che abbiamo elaborato in queste settimane grazie ricordo alla commissione programma presieduta da Fabio Torriero con Giuseppe Brienza con Giuseppe Focone e con Paolo Boraiuto il nostro think tank di professori che ha dato appunto una importante svolta anche dal punto di vista programmatico ma ricordiamoci oggi è la giornata soprattutto dell'appello verso il 4 marzo per frenare la deriva che è l'appello di 63 religiose religiosi e sacerdoti per sostenere il popolo della famiglia alle prossime elezioni Anacleto chiede pdf vuole dare contributi alle scuole private cioè di allievi ricchi no non hai capito Anacleto noi vogliamo creare un sistema in cui non ci siano le scuole private di allievi ricchi ci siano le scuole conformi agli standard indicati dal ministero siamo scuole parificate soggetti di diritto pubblico che possono svolgere il servizio pubblico che possa essere questo servizio erogato da scuola statale o da scuola non statale analogamente secondo un costo standard questo è la riforma del costo standard poi la famiglia deciderà liberamente a quale scuola mandare il proprio figlio questa è la proposta cioè senza un euro non le scuole ricche non si paga più un euro non ci sono più le rette d'accordo tutti quanti possono liberamente attraverso la riforma proposta dal popolo della famiglia scegliere dove andare a scuola di più con la riforma del costo standard si accumulano risparmi che possono essere investiti nel sistema pubblico integrato e dunque questo investimento fa sì che le scuole che oggi sono diroccate le scuole pubbliche statali possano trovare una nuova stagione salutiamo anche marzia dice taci schifo della società e va bene un esagio di marzia tutto sommato marzia casiraghi ha bisogno di affetto e di attenzione diamogliela un po' così magari scrive almeno in minuscolo dai ester corona oggi fa distribuzione della locandina per la festa della famiglia ricordiamo 25 febbraio in via monte del gallo 113 il 24 febbraio c'è la nostra assemblea nazionale non vi dimenticate tutti presenti alle 11 e 30 mi raccomando assemblea nazionale del popolo famiglia sarà la grande festa della nostra campagna elettorale perché poi le chiusure le andiamo a fare nei collegi ma la grande festa a roma la grande festa a roma è il 24 febbraio alle ore 11 e 30 alla teatro sala umberto d'accordo teatro sala umberto che è a via della mercede il 24 tutta grande assemblea nazionale del popolo della famiglia che ci darà qualcuno insista qualcuno insista a chiamarmi mentre sono in diretta e così fa saltare la diretta ma fatemi ricordare a tutti l'impegno dunque per il 24 febbraio 24 febbraio ore 11 e 30 assemblea nazionale del popolo della famiglia non perdetevi questa occasione saluto anche filippo cricolini che è arrivato saluto lorenzo damiano saluto ponica consigliere tutti allora 24 febbraio luigi de noelli se è inutile che mi dispendi 10 volte la domanda il 12 sarò a napoli non mi ricordo se è mattina o pomeriggio andate a vedere la locandina e vedrete il 12 sarò a napoli alla pontificia facoltà teologica dell'italia peridionale chiamato a relazionare ai docenti questa è una cosa molto bella anche un bell'onore diciamo insomma essere chiamati a parlare alla pontificia facoltà teologica ci vediamo il 12 a napoli alla sezione tommaso d'aquino bene come capite gli impegni sono infiniti noi continuiamo a averne uno ogni mezzo minuto non pensi quelli che ci telefonano in diretta dunque non è una cosa da riempire perché non è la nostra iniziativa quella della pontificia università facoltà teologica non so neanche se aperta sinceramente alla partecipazione di tutti però verificate io sarò a napoli il 12 sarà teodati ricorda l'indirizzo per i romani domani a via riccardo forster 24 occidental aran park zona euro fonte meravigliosa ci vediamo alle 18 tutti i romani tutti i candidati romani c'è coordinamento c'è anche sergio pirozzi per parliamo con le per con cui parliamo anche delle azioni regionali quindi ci vediamo domani tutto il pdf di roma alla occidental aran park via riccardo forster 24 domani ore 18 questa è l'informazione ricordatevi allora se volete leggere tutto il programma c'è l'indirizzo sul sito www.ilpopafamilia.it slash programma il bigliettino oggi arriva in tutta italia tra oggi e domani il materiale del bigliettino d'accordo mi raccomando usarla come killer application per tutti l'appello dei sacerdoti fondamentale tra pochi minuti questo appello dei sacerdoti sarà pubblicato sul mio profilo facebook utilizzatelo e fatelo girare a manetta per arrivare ad avere più firme possibili i sacerdoti religiosi religiose che vogliono firmare l'appello possono mandare una email alla croce quotidiano gmail.com sulla croce quotidiano oggi trovate l'appello l'editoriale di gianfranco amato un grandissimo pezzo di emiliano fumaneri andate per favore e fate l'abbonamento sostenete in qualche modo il nostro sforzo perché come dice filippo cricolini ha già ritirato il pacco di hl che mandare questi pacchi di hl in tutta italia solo quello è un salasso che ti taglia un braccio ora abbiamo fatti milioni di biglietti come questo per far arrivare a tutti il messaggio e il simbolo del popolo la famiglia li stiamo consegnando ovunque saluto anche claudio iagono che ha avuto in anteprima i materiali perché gli umbi sono venuti a prenderseli gli arriveranno altri a casa di marco pennetti lo annuncio e dunque tutto questo lavoro se potete ripagarci un minimo con un minimo di attenzione iscrivetevi al pdf non abbiamo fatto pagare 30 mila euro a ogni candidato come a forza italia come nel partito democratico non abbiamo chiesto nulla a chi si candidava se però vi iscrivete e fate pagare da tessera sostenitore date una mano allo sforzo economico del popolo della famiglia non pensiate che tutto cade dal cielo poi sì la provvidenza esiste ma va aiutata un pochino www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e lì avrete modalità di accedere al nostro marketplace e sostenere tutto ciò che potete fare lì sceglierete cosa fare impegni lo ripeto ci sta ancona ci sta perugia ci sta imola da fare nei prossimi giorni ci sarò io dunque a girare l'italia oltre a fare domani la presentazione dei candidati romani qui del pdf all'eur quindi sono tanti impegni a non finire ma forse la cosa più importante e più bella è questo appello dei 63 sacerdoti religiosi e religiose per il popolo della famiglia per il sostegno al popolo della famiglia che ci rinfranca davvero vado a rileggere l'ultima frase dell'appello noi sacerdoti religiosi e religiose firmatari di questo appello pregando e amando il nostro paese incoraggiamo tutti i nostri concittadini italiani a conoscere il popolo della famiglia e nel discernimento ad offrire ogni possibile sostegno il prossimo 4 marzo per porre almeno un freno a questa deriva che vorrebbe farla finita con l'uomo questa ultima frase è davvero una frase che dovete far esplodere intanto nei vostri cuori ma poi in tutta italia in tutto il mondo cattolico perché è una frase meravigliosa che dice veramente che i nostri pastori sono al nostro fianco in questa battaglia che è così complessa così faticosa secondo alcuni assurda ma che invece sta prendendo davvero la piega miracolosa e provvidenziale per aiutare l'italia a uscire dal baratro questo è l'appello di 63 sacerdoti religiosi e religiose per il popolo della famiglia arrivato anche mirco de carli facciamo diffondere facciamo arrivare anche a padre carbone va bene mirco de carli che dici così magari si si diletta a capire chi siamo fatelo arrivare a padre giorgio carbone questo 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 appello così poi ci racconta qualcosa lo manda mirco de carli a padre carbone ha ragione alessandra mondelli che dice sono 64 i firmatari non 63 64 uno si è aggiunto in diretta è verissimo mandate i sacerdoti religiosi e religiose che vogliano firmare questo importante appello possono scrivere alla croce quotidiano chioccio a gmail.com e far sapere che appunto sostengono l'appello stesso giusi pomponio dice ciao mario il rosa di dona marzia baldini subito dopo scrive mario sarà in maglia rosa anche il quattro verso come vincitore del giro d'italia alle femmine piace sta maglia rosa a quanto pare insomma niente male insomma allora la ripeterò la puntata in maglia rosa mirco de carli dice così la smetto di calugnare si mettono a fare del bene bravo mirco hai colto diciamo l'accenno vagamente polemico vi saluto davvero a tutti siamo arrivati aniese mascellari dice magari arrivassero a 640 predi firmatari dell'appello lavorate lavorate perché se andate a parlare con dieci sacerdoti con questo appello e tu non lo firmi ci sono 63 nomi sotto anzi adesso aggiungeremo il 60 spiegate a raffaella dinolfi a quelli che mi telefono che quando sto in diretta con stampa e vangelo non mi devono telefonare ogni volta mi fanno saltare la diretta ragazzi e lo sapete tutti fino alle 10 c'è la diretta e stampa e vangelo è abbastanza importante questo non telefonate durante le dirette di stampa e vangelo comunque l'impegno che volevo dire fate conoscere a tutti i vostri amici sacerdoti religiosi e religiose la possibilità che c'è di firmare l'appello verso il 4 marzo fermiamo la deriva di religiosi religiosi e sacerdoti a favore del popolo della famiglia è una grande occasione nicola di matteo dice adesso in battaglia andiamo tutti per strada a distribuire i nostri materiali facciamo conoscere il popolo della famiglia a più persone possibile questo è il nostro lavoro mancano solo 24 giorni alla fine della campagna elettorale sono 24 giorni sono un soffio e allora impegniamoci subito a far tutto il lavoro che è necessario per far conoscere il popolo della famiglia don salvatore vidiello si aggiunge ci annuncia che si aggiunge anche don alessandro sacco di volvera stiamo arrivando a 65 allora dice giustamente andrea cataldo mario calmo stanno lavorando per il popolo le intenzioni sono buone sbagliano i tempi ditelo a tutti la mattina c'è stampa e vangelo fino alle 10 non si telefonano in orfi tanto mi chiamate fino alle 5 di mattina tutti i giorni datevi solo l'oretta in cui faccio stampa e vangelo senza telefonarmi ma di telefono in tre durante questa diretta di oggi dunque fatelo sapere a tutti si può firmare online l'appello gabriele parconi ascolta bene si firma mandando una email con nome cognome del sacerdote e luogo dove dove è sacerdote o parro con religioso religiosa a lacroce quotidiano chiocciolagmail.com è molto facile lacroce quotidiano chioccio a gmail.com questa è la modalità con cui si firma l'appello dei 63 religiosi sacerdote e religiose che trovate oggi in prima pagina sul quotidiano lacroce alessandro parciotta dice parlerò con don stefano che ti ha ospitato in chiesa a rimini perfetto monica consigliere dice dove si prendono i cartoncini vengono inviati ai delegati regionali poi delegati regionali li distribuiscono a tutti i territori vi ringrazio davvero per l'attenzione a questa puntata noi ci ritroviamo domani con stampa e vangelo sempre tra le otto e un quarto le nove diciamo così come momento di partenza per poi arrivare quasi a ridosso delle dieci noi andiamo avanti per fare questa battaglia mi raccomando oggi la priorità è far distribuire a tutti questo appello farlo conoscere ho letto in diretta quindi fate mi piace per favore alla diretta fate la condivisione della diretta sulla vostra pagina facebook e attraverso questa condivisione fate sapere a tutti che l'appello può essere firmato da i sacerdoti religiosi e religiose semplicemente mandando un'email a lacroce quotidiano chiocciola gmail.com non si fa la firma online se no ci arrivano tutti i robot inutili a mandare robaccia la firma si fa mandando una email alla croce quotidiano chiocciola gmail.com lo ripeto lacroce quotidiano chiocciola gmail.com chi vuole può sostenerci in questa maniera ricordate di sostenere la croce iscrivetevi al popolo la famiglia fate la tessera iscrivetevi al sostenitore date una mano il marketplace www.lacroce quotidiano.it slash abbonarsi trattino ora noi adesso tutti per strada a fare propaganda a questo simbolo e a chiedere a tutti semplicemente una croce sul simbolo perché l'alternativa c'è prima la famiglia il 4 marzo vota popolo della famiglia è molto semplice è un lavoro che dobbiamo fare incessantemente ma per fortuna sono rimasti solo 24 giorni di campagna elettorale da don francesco colamonaco che ha appena firmato lo ringrazio davvero siamo diventati già tanti durante questa diretta sono aggiunti già molti sacerdoti durante questa diretta quando vieni all'euro domani alle 18 l'ho detto a Dario Roberti alla fonte meravigliosa alle 18 ci vediamo tutti all'Occidentale Aran Park per la presentazione dei candidati del popolo la famiglia per il coordinamento romano e per incontrare anche Sergio Pirozzi candidato alla presidenza della regione Lazio vi do un abbraccio forte noi ci ritroviamo domani come ho detto tra le 8 e 15 e le ore 9 da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti